Capitano America Soldato d'inverno! Sei pronto alla battaglia? Sì! E allora... sigla! Ma che cazzo è sta roba? Mistero? Con il mio equipaggio! Ehm, scusa, mi spieghi che minchia c'entra Clemente Russo? Uè, guaglio, faci immagaccia ai misteri! Enorme vette poi! Come inviato fa cagare. Ma se ti tira un pugno, sei morto. Sì, ok, ma tu cosa ci fai qui? Me lo sono chiesto anch'io. Poi ho pensato ad una cosa. Il film parla di cospirazioni. Argomento trattato da me più volte in trasmissione. Inoltre il film è uscito in Italia il 26 marzo. Due più sei fa o. Meno uno, sette. Sei per sette, quaranta due. Più due, quaranta quattro. Coincidenze? Io non credo. Tu sei completamente fulminato, Cadmon. Ma non lascerò l'America in rovina. Falcon! Vedova nera! Fatevi avanti! Notevole, ma il mio equipaggio non è da meno. Ruggeri e Berri hanno una forza inversamente proporzionale al numero di capelli. La Casa Legno è stata Corringo. E non solo. E Bossari è un guerriero in tua mano. Bossari? Bossari? Ho paura ragazzi! Sento fratto ragazzi! C'è qualcosa che non va qui ragazzi! Cosa c'è ancora che non va Bossari? Sento dei rumori ragazzi! Mi giuro è terrificante! Basta con la cheetta Bossari! E' più forte di me ragazzi! Sento privi di ovunque ragazzi! Chiude quel cesto di vacca! Ti rimando a Top of the Pops! Si ragazzi! E adesso che abbia inizio la battaglia! Fuoco! Vedo va nera! Si capitano! Ma sei una gnocca paurosa! Grazie! E aspetta! Ci stai provando con me per caso? No, è solo che hai flirtato con Occhio di Falco, Devil, Iron Man alla versione Ultimate. Quindi non è che magari anch'io avrei qualche piccola possibilità. Assolutamente no! Benvenuto nella friendzone amico! Taci Falcon! Pensa a distruggere lo staff del soldato d'inverno! In particolar modo quella riciclata di Ele Noir Casalegno! Oh si! Posso farmela amico? No Falcon! Devi seguire i miei ordini! Ehi ehi ehi! Con chi crei il panale? Col tuo schiavo negro? Uccideteli! Se li abbatti ci dividiamo una bella panale eh! Affare fatto amico! Oh no! Berri! Eri una grande Iena! Ma cosa ti è successo? E tu Rogeri! Eri un grande cantante? No! Come osi Baldraca! E adesso... Mossa finale! Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero? Mistero! Era più irritante del signoraggio bancario! Falcon! Cosa amico? Ricordati la banana! Ok amico! Oh mio Dio! Sei finito Capitano America! Vai bossari! Boo! Ragazzi! Ho paura! Ma che cazzo bossari! Ah! Addio Cadmon! Salutami le scie chimiche! Io non credo! Sei dura a morire eh! Già! Ma noi conosciamo la tua più grande paura! Scoprire che in realtà ho una parrucca! No! L'altra! O- 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 Ora sei anche tu! Non dirlo! Ora sei anche tu! Non dirlo! Ora sei anche tu! Non dirlo! Un illuminato! O- Che battuta diverta! E' stata dura ma anche questa volta ce l'abbiamo fatta e ora sotto con gli Avengers! Ehi ragazzi ci sarò anch'io questa volta? No! Complotta! 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 Il solito rosicone! Abbraccione di gruppo? Sì! Sììììììììì! Sììììììì! Posso tornare dal Casalegno? E allora dammi la mia banana amico Tieni Ehm scusate ragazzi Non è che posso unirmi anch'io a voi Ho un sacco di esperienza Conducevo Top of the Box BANZOI Un abbraccio Adam